guardia di finanza smaschera nuovo furbetto del reddito di cittadinanza flash mob degli istituti superiori pesaresi in piazza del popolo per giulio reggeo termina scuole sicure lo screening rintraccia nuovi positivi con il rientro delle marche in zona gialla a pesaro riaprono anche i musei buona serata questa è l'edizione del nostro telegiornale di oggi mercoledì 3 febbraio in apertura la cronaca con una nuova operazione della sezione pesarese della guardia di finanza che ha individuato un uomo che percepiva in maniera illegittima il reddito di cittadinanza tutte le informazioni in questo primo servizio di daniele romagna aveva ricevuto il reddito di cittadinanza per un totale di 11 mila e 345 euro ma aveva dichiarato in modo non veritiero di risiedere in italia da almeno due anni in modo continuativo un uomo è stato smascherato e denunciato dalla compagnia della guardia di finanza di pesaro che ha condotto le indagini in stretta collaborazione con l'inps il soggetto inizialmente iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero perché emigrato in venezuela nel 2012 era rientrato in italia a fine luglio del 2017 e nell'aprile del 2019 aveva richiesto il beneficio dichiarando quindi un periodo di residenza maggiore rispetto a quello realmente trascorso per ottenere il suo siedio sono infatti necessari almeno due anni di residenza sul territorio nazionale antecedenti al momento della presentazione della domanda nella realtà dei fatti invece l'uomo era tornato in italia soltanto da 21 mesi tale falsità ha consentito alla persona di percepire indebitamente nel 2019 e mantenere nel 2020 il reddito di cittadinanza per un importo complessivo superiore agli 11 mila euro il soggetto non avendo dunque i requisiti per beneficiare dei sussidi statali è stato segnalato sia all'autorità giudiziaria che all'inps per la revoca del sostegno e il recupero della somma incassata torniamo a parlare di cronaca perché nella giornata di oggi è stato posto sotto sequestro da parte dei carabinieri del comando di pesaro il poliambulatorio igea policlinica situato in strada nazionale adriatica 37 gravi le attività irregolari svolte dal centro nel quale pare venissero effettuati i tamponi per la ricerca di positivi al covid nonostante la struttura non rientrasse tra quelle autorizzate dall'asur alcuni tamponi inoltre sarebbero stati venduti come molecolari e quindi a un costo superiore rispetto a quelli rapidi nessun laboratorio di analisi del territorio però avrebbe processato i test provenienti dal poliambulatorio posto sotto sequestro nel frattempo asur area vasta 1 ha lanciato un appello a chiunque fosse andato negli ultimi 20 giorni a sottoporsi al tampone presso la struttura le persone in questione dovranno contattare l'asur al numero 0721 42 44 07 questa mattina piazza del popolo è stata la location scelta dai ragazzi del liceo scientifico marconi insieme ad altre scuole pesaresi per un flash mob dedicato al ricordo di giulio reggeni nella giornata che segna l'anniversario dei cinque anni dal ritrovamento al cairo del corpo senza vita del giovane ricercatore un momento emozionante che vi raccontiamo in questo prossimo servizio era il 3 febbraio del 2016 quando il corpo di giulio reggeni ricercatore italiano scomparso al cairo in egitto venne ritrovato senza vita a cinque anni di distanza dalla triste data questa mattina gli studenti del liceo scientifico marconi di pesaro insieme ad altre scuole superiori della città hanno organizzato un flash mob in piazza del popolo per accodarsi alle tante voci che chiedono verità e giustizia su quanto accaduto gli studenti che hanno partecipato erano circa un centinaio abbiamo coinvolto innanzitutto il liceo marconi un rappresentante di classe per appunto ogni classe del liceo e in più abbiamo coinvolto anche le altre scuole perché più siamo più la nostra voce è forte e sono venuti quindi alcuni rappresentanti dalle altre scuole in particolare del mamiani e del mengaroni perché eravamo in piazza noi eravamo in piazza e siamo ancora tuttora perché appunto non è plausibile che ancora ci siano luoghi nel mondo in cui i diritti umani vengono vengono violati giulio era un ragazzo come noi che stava semplicemente studiando e ricercando e noi abbiamo il diritto di essere tutelati nella nostra ricerca quindi al posto al suo posto poteva esserci davvero chiunque di noi abbiamo preso alcuni banchi dal nostro istituto dal liceo marconi li abbiamo trasportati fin qui con uno staff dei nostri compagni che si sono offerti di aiutarci in questa bella iniziativa è un banco per ogni studente tutti quanti seduti è un banco vuoto realizzato dal liceo mengaroni che appunto simboleggia l'assenza di giulio tra noi ma la nostra presenza noi tutti siamo giulio alla fine il messaggio è arrivato anche dai genitori di giulio reggeni sì i genitori sono stati super felici di aiutarci così come l'avvocato infatti durante la manifestazione abbiamo ascoltato il loro messaggio proprio per noi e li incontreremo adesso il 17 febbraio sempre nell'ultima parte di questo progetto assemblea d'istituto e saremo felici appunto di fargli domande di ringraziarli soprattutto per il loro sostegno e farli sentire che noi ci siamo con tutta la nostra forza di giovani l'idea di fare questa diciamo assemblea un po' atipica è nata appunto dal richiedere verità e giustizia per un caso molto spinoso soprattutto in questi ultimi periodi e ammetto che non è stata facile prepararla poiché con tutte le restrizioni del covid abbiamo dovuto fare uno staff apposta per la sistemazione dei banchi che devono essere distanziati non potevamo includere tutti i 1800 studenti del marconi quindi è molto anche selezionare molti ci hanno detto di no perché avevano paura però comunque alla fine ci siamo riusciti è un'idea dei ragazzi che hanno lavorato veramente tanto con grande merito in questo momento molto difficile per costruire un pochino tutto noi docenti abbiamo aiutato un po il coordinamento soprattutto nei collegamenti con la famiglia Regeni è una delle poche manifestazioni che c'è quest'anno ricordo di giulio visto il covid e vista la situazione appunto in cui stiamo vivendo quindi merito ai ragazzi davvero di essere riusciti a portare in piazza una un pezzo di storia attuale del nel nostro paese e un pezzo di lotta per i diritti umani un pezzo di lotta delle loro giovani vite che giustamente vogliono verità e giustizia perché vogliono poter viaggiare vogliono poter andare liberi in altri paesi sapere che c'è uno stato che ci difende che c'è possibilità di essere cittadini non soltanto in italia ma in tutto il mondo questa è una manifestazione per non perdere l'attenzione non indietraggiare neanche un passo su rispetto a dei principi che noi consideravamo scontati quelli di verità legalità e giustizia quelli che tutti ritengono assodati in un paese come il nostro e invece ancora c'è da tenere l'attenzione molto alta la l'attenzione non cala anche perché patrick zacchi che noi ricordiamo che vogliamo ricordare anche queste iniziative ancora in carcere da più di un anno dorme per terra vive distenti e anche lui non sappiamo perché è stato messo in prigione quindi grazie al liceo scientifico marconi grazie agli studenti del mamiani dello stesso marconi e del liceo mangaroni che hanno realizzato questo banco un'opera d'arte che verrà posizionata proprio al campus scolastico perché l'attenzione non deve calare e la verità e la giustizia vanno sempre pretese Ancora le scuole protagoniste perché terminato oggi scuole sicure lo screening destinato a studenti professori e personale scolastico degli istituti superiori pesaresi promosso dal comune di Pesaro questa mattina siamo andati a vedere le ultime fasi di questo progetto Termina oggi scuole sicure lo screening durato quattro giorni organizzato dal comune di Pesaro negli istituti secondari della città dopo il rientro degli studenti nelle scuole superiori Buono il bilancio devo dire grazie e bravi veramente ai tanti studenti che si sono sottoposti c'è stato grande senso di responsabilità grande senso civico verso i compagni di classe verso loro stessi e verso le persone che sono a casa avevano voglia di tornare in classe avevano voglia di riavere quei momenti di socialità che per tanti mesi hanno perso ringrazio i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il Croce Rossa, Protezione Civile tutti coloro che sono stati con noi in questi giorni veramente c'è stato un grande lavoro di squadra siamo contenti per il risultato che c'è stato purtroppo c'è stato anche qualche positivo ma la funzione di questo screening era questo era permettere di stare in classe in sicurezza e di stare a casa in sicurezza l'ipotesi e la speranza è che sia nei prossimi mesi un'operazione che insieme alla regione si possa portare avanti il mio augurio è questo, magari una volta al mese con la regione abbiamo visto che siamo stati in grado di organizzare tutti i siti c'è stato veramente un grande lavoro di squadra perché si riconosce la validità del progetto le giornate nel complesso sono andate devo dire molto bene nel senso che l'adesione è stata molto alta, parliamo di percentuali importanti sopra il 70% qua al campus è stata comunque proficua perché nel complesso sono stati individuati 15 positivi tra docenti e ragazzi e questo ha permesso di applicare le opportune misure di quarantena attraverso i dipartimenti di prevenzione direi che poi la struttura organizzativa è stata valida, replicabile e quindi nel complesso è andato tutto molto bene nella giornata di ieri lo screening nelle scuole superiori ha permesso di individuare 5 nuovi soggetti positivi tra studenti e professori per la sua ultima giornata di attività che si è svolta oggi al campus all'Agrario Cecchi e al Mengaroni il progetto Scuole Sicure si è allargato anche al personale dei nidi e delle scuole di infanzia comunali abbiamo scelto questa categoria, allora innanzitutto è stata una richiesta dei sindacati ma condividiamo questa richiesta perché soprattutto questa fascia di età 0-6 in cui non è possibile il distanziamento sociale non è possibile prevedere le mascherine, sono diciamo dei luoghi di lavoro particolari ed era una garanzia in più per il personale che ci lavora, una garanzia in più per le famiglie Positivo il giudizio sull'iniziativa anche da parte dei ragazzi che si sono sottoposti al test Come è mai la decisione di farlo? Perché per la sicurezza della nostra classe, la mia famiglia e poter oggi andare da mia nonna subito Quindi subito favorevole da quando è andata l'iniziativa? Esatto, sì Molto utile e penso che si debba fare anche più di una volta perché è molto importante controllare lo stato attuale della pandemia penso che controllare sia molto importante Il ritorno a scuola com'è andato? Molto bene, molto bene, è stato diciamo un po' strano però ci si ambienta insomma, è stato bello È una cosa molto utile poi per la sicurezza, per la famiglia, per la scuola, un po' per tutto dai Il tuo ritorno a scuola? È andato bene, è abbastanza sicuro, tutte le norme a regola, giusto, sì, sì, sì C'è differenza rispetto alla didattica a distanza? Sì, molto più differenza, si riesce a seguire molto meglio le lezioni rispetto alla distanza, poi anche il rapporto con gli amici cambia, sì, sì Ed ora lo spazio dedicato agli aggiornamenti del coronavirus Il servizio sanità della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.005 tamponi, 3.038 nel percorso nuove diagnosi, 1.967 nel percorso guariti I positivi del percorso nuove diagnosi sono 408 con 77 casi in provincia di Pesaro Urbino 10 i decessi notificati nella serata di ieri dal servizio sanità della regione Marche Ha suscitato rabbia e sdegno tra residenti e cittadini di Vallefoglia la distruzione ad opera di ignoti del presepe di Montecchio collocato all'esterno della chiesa di Santa Maria Assunta, un atto di grande inciviltà che ha raccolto l'indignazione di tante persone anche sui social dove sono state caricate le foto dell'opera danneggiata da vandali sconosciuti Come sottolineato da diversi utenti, questo recente atto vandalico è la testimonianza che la zona sembra essere luogo di ritrovi e bivacchi fin troppo movimentati ormai da qualche tempo Questa mattina a Dancona, a Palazzo Raffaello, il vicepresidente della regione Marche Mirko Carloni e il provveditore Gloria Manzelli hanno sottoscritto l'intesa che sosterrà i progetti di orticoltura sociale e didattica nelle carceri marchigiane L'obiettivo è aumentare il numero delle strutture penitenziarie marchigiane coinvolte nei progetti agricoli formativi e riabilitativi con l'inserimento della casa detentiva di Pesaro Carloni ha sottolineato l'importanza per chi sconta una pena detentiva di poter ricevere una formazione e delle possibilità lavorative Con il rientro delle Marche in zona gialla, anche a Pesaro, riaprono i musei i musei civici, il Museo Nazionale Rossini con la mostra Noi non erano solo canzonette e anche Casa Rossini e quindi i visitatori possono accedere a questi musei dal lunedì al venerdì come ci racconta in questa prossima intervista l'assessore alla cultura del comune di Pesaro Daniele Vimini Diciamo la verità che non vedevamo l'ora perché i musei assieme a tante altre realtà anche realtà economiche naturalmente, ma hanno sofferto tanto di questo periodo di chiusura e anche tanto di non poter ospitare visitatori, anche famiglie, bambini per cui sta ripartendo anche la didattica in tutti i musei della rete nei musei civici dove siamo ora, al Museo Rossini, agli altri ambiti, la pescheria insomma per poter vivere sempre di più dopo questo periodo di chiusura i musei chiaramente limitato per ora al lunedì e venerdì nel nostro caso nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 però è una bella opportunità, così come è un'opportunità tornare a vivere questa mostra che non a caso abbiamo prorogato a questo punto per tutto il mese di febbraio poi i musei cambieranno pelle, lasceranno spazio alle celebrazioni per 700 anni di Dante ma appunto l'opportunità di continuare questo viaggio iniziato quest'estate in realtà nella storia d'Italia attraverso la canzone quindi in un viaggio che inizia simbolicamente con il 1958 con il dipinto di blu di cui proprio ieri era l'anniversario con il ministro Vorare Domenico Modugno e si conclude con il 1982, l'anno dei mondiali di Spagna ma anche un anno chiave nella lotta al terrorismo quindi anche un momento in cui l'Italia si è ritrovata in un momento di massima difficoltà come lo è ora a causa della pandemia ma ha trovato anche in quel caso nello sport un motivo di unità nazionale e di orgoglio per ripartire Questa mostra è un viaggio incredibile perché parte appunto dal 1958 il boom economico come sentiamo anche un po' l'epopea dell'esercito del surf ma attraversa anche i momenti di difficoltà del paese così come le lotte sociali, è un bellissimo esperimento è un bellissimo lavoro anche da condividere con i nostri studenti speriamo in questo mese di riuscire ad avere anche alcuni di questi ma comunque anche un lavoro di didattica video lo porteremo avanti per poter dare una vita ulteriore a questa mostra che è ricca di contenuti abbiamo qui anche una Moto Big Imperial Sport una 125 del 1966 che è stata messa a disposizione molto gentilmente dal Museo Benelli museo che fa parte anche del circuito museale della città e quindi contribuisce in questo racconto che è fatto di oggetti fatto di immagini, fatto di storie, di sensazioni anche a raccontare uno sviluppo del design, uno sviluppo delle moto uno sviluppo della produzione tecnica e industriale di cui Pesaro, non solo per la moto ma in gran parte anche per la moto è piena protagonista A Pesaro non solo i musei civici, riapre anche il Museo Nazionale Rossini e Casa Rossini quale le misure per rispettare la sicurezza e appunto le misure di sicurezza anti-covid anche nei musei? Sì, il Museo Nazionale Rossini che peraltro ospita la seconda parte di questa mostra qui si ferma agli anni 60 mentre il Museo Nazionale Rossini si parte dagli anni 70 fino al 1982 Casa Rossini riapre contestualmente le misure sono quelle solite a cui eravamo abituati anche in quest'estate quindi ingressi contingentati, gradite le pronotazioni soprattutto eventualmente per dei piccoli gruppi organizzati o per visite guidate però insomma rivolgendosi a Pesaro Musei insomma il sito è peseromusei.it ma insomma i luoghi sono tutti costantemente presidiati si hanno tutte le informazioni ma insomma l'importante è evitare gli assembramenti anche per questo un orario spalmato nel pomeriggio lo consente in maniera più appropriata però insomma non ci spaventa questo aspetto anche perché le misure di sicurezza sono più che rodate da quest'estate Come testimonia questo scatto sono iniziati nel pomeriggio di ieri lungo il tratto di pista ciclabile in via Belgioioso i trattamenti di prodotti su alberi e piante contro le processionarie campagna di Aspes di iniezioni vitaminiche a quasi 2000 alberi per debellare l'insetto infestante e pericoloso Prenderà il via lunedì 8 febbraio e andrà avanti fino a domenica 14 l'iniziativa promossa dal Partito Democratico che prevede la raccolta di indumenti usati per persone senza fissa dimora e che saranno distribuiti grazie al contributo della Croce Rossa tre i circoli presso cui recarsi dalle 18 alle 20 per donare zona Pantano in via Dandolo 8 Montegranaro in via Salvatore 17 e a Santa Maria delle Fabrecce accanto al bocciodromo Fabi C'è tempo invece fino al 15 febbraio per partecipare al bando del Servizio Civile Universale aperto ai ragazzi dai 18 ai 28 anni Tra gli oltre 40.000 progetti resi disponibili è possibile scegliere anche un percorso di 12 mesi in fondazione Ant con il progetto sarà importante attivo anche nella sede pesarese dell'associazione tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'Ant nella sezione Servizio Civile 2021 e a causa del Covid-19 il Carnevale di Fano cambia pelle per la settimana grassa è infatti previsto un fitto programma di eventi in diretta streaming il tema di quest'anno è Dante Alighieri vediamo quindi il servizio di Simone Celli dalle maschere alle mascherine ma il Carnevale di Fano non molla l'emergenza sanitaria ha costretto la principale Kermes fanese a reinventarsi così ecco che da giovedì 11 a martedì 16 febbraio andranno in scena tanti appuntamenti a sfondo dantesco e tutti rigorosamente in streaming anche in questo anno particolare il Carnevale di Fano non si arrende assolutamente no, non si è arreso dal 1347 ad oggi e non si arrenderà quest'anno ovviamente in maniera diversa, la tecnologia ci viene incontro in questo senso quindi ci sarà una settimana grassa infernale come l'abbiamo sottolineata una settimana grassa in streaming tutte le sere alle 21 sulle piattaforme del Carnevale di Fano e del Comune di Fano con eventi che racconteranno il Carnevale, il Carnevale su Dante quest'anno il tema appunto è Dante nel settecentenario della sua morte e quindi racconteremo Dante in qualche modo dissacrandolo racconteremo quel Dante meno conosciuto che non crediate è anche comico in alcuni suoi momenti gli eventi avranno come luogo di attuazione il piazzale della fabbrica del Carnevale illuminata a festa dove il giovedì grasso il sindaco cederà il potere al sindaco del Carnevale che quest'anno appunto è Dante Alighieri e dopodiché Dante raccoglierà il suo consiglio, i suoi consiglieri e farà una sorta di spettacolo che è stato scritto in versi uno spettacolo comico scritto in versi proprio per il Carnevale di Fano quindi farà il suo consiglio comunale con i suoi assessori ma insomma raccontandolo in maniera molto divertente tanto per citare un assessore, Caronte, assessore alla viabilità e qui dico tutto dopodiché Dante andrà, il sindaco del Carnevale andrà a governare Fano per tutta la settimana dove troverà al Teatro della Fortuna di Fano un bellissimo concerto realizzato dalla Fondazione Teatro della Fortuna e dall'Orchestra Sinfonica Rossini un DJ set sempre al Teatro della Fortuna del grande DJ Giotty Vannelli e ci saranno altri eventi come da Gradara, dalla stanza di Paolo e Francesca un racconto del quinto canto dell'Inferno tradotto in dialetto fanese e poi chiuderemo il martedì grasso con invece un evento più evocativo, più emozionale sempre dal pezzale della Fabbrica del Carnevale dove un'associazione fanese che si chiama Un Emanesimo Artificiale ha dato agli algoritmi di intelligenza artificiale l'Inferno Dantesco e gli algoritmi hanno prodotto un testo assurdo ma si capisce che è l'Inferno di Dante e delle immagini surreali che evocheranno l'Inferno Dantesco poi Carlo Simoni, il grande attore di nascita fanese ci reciterà il primo canto dell'Inferno e chiuderemo con la riconsegna dei poteri al sindaco Massimo Seri e poi il rogo dei pupi Da Natale al Carnevale, grazie allo streaming Fano mantiene vive le sue tradizioni Sì, e soprattutto Fano è città del Carnevale quindi ovviamente era importantissimo per noi in questo momento arrivando nella settimana grassa a fare emergere questo carattere, questa identità Per questo devo ringraziare veramente tanto l'ente carnevalesca che sta lavorando a fondo in questo periodo così difficile devo dire in una collaborazione aperta con tutti i mondi culturali cittadini continuiamo a far lavorare in un qualche modo le maestranze la città sarà allestita ad esempio nelle piazze ci saranno degli allestimenti con materiale prodotto appunto dai maestri carristi che arrivano anche dai vecchi carri quindi coloro che vorranno venire nella città di Fano troveranno una città allestita per l'appunto e magari l'occasione anche per fare degli acquisti nella nostra città una settimana in streaming ci aiuta a mantenere l'attenzione su questo tema ma ovviamente non ci accontentiamo perché vogliamo tornare al Carnevale come lo conosciamo e quindi stiamo pensando ad una forma che possa avvicinarsi le persone nel periodo estivo ovviamente con la speranza che ci siano le condizioni perché anche per noi rimane la prerogativa principale di creare tutto in sicurezza in questo momento così difficile Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale come sempre vi andiamo a raccontare quella che sarà la prima serata su Rossini TV questa sera alle 21.15 vi faremo rivedere il saggio di danza di Officina in Movimento The Greatest Showman e poi vi ricordiamo che domani torna una nuova puntata di Insieme a Canestro gli ospiti che verranno intervistati da Marco Cadeddu sono Henry Drell che è l'ala della VL Roberto Occhialini che è titolare di Stile e Ricamo SRL Simone Flamini ex giocatore della VL non perdetevi alle 21.15 quindi la puntata e come sempre vi diamo appuntamento a domani con la nostra rassegna stampa alle 7.20 in diretta sia a TV che a Facebook qui vedete anche le repliche se non riuscite insomma a vederla in diretta invece adesso per voi c'è il meteo noi ci rivediamo domani mattina appunto con la rassegna stampa buona serata